Il 2019 è un anno importante per la città dei Sassi che vivrà il suo anno da capitale europea della cultura, un anno in cui si dovranno centrare diversi obiettivi, prove generali su più fronti e anche un anno di riflessione per guardare in prospettiva verso il 2020. Su questi temi e su diverse tematiche abbiamo intervistato il primo cittadino della città dei Sassi, Raffaello De Ruggeri, che ha parlato di ciò facendo anche un augurio per quest'anno alla sua comunità. Voglio offrire a tutte le donne e a tutti gli uomini della città di Matera gli auguri di un sereno e prospero 2019, perché il 2019 possa diventare non il traguardo raggiunto dalla coralità locale e comunitaria, ma debba essere invece il trampolino di lancio per costruire il futuro della città. Noi non possiamo aspettare il futuro, noi lo dobbiamo scegliere e lo dobbiamo costruire. Questo è l'impegno e la responsabilità dell'attuale governo cittadino. Quale futuro? Il futuro che ha ovviamente le ali legate alla tecnologia e alla innovazione. Questa è una città che vive da 8 mila anni. Se dura da 8 mila anni è perché è riuscita sempre a produrre nuova storia. La storia del nostro tempo ormai non è più la storia degli accadimenti militari o civili. La storia del futuro è la innovazione, è la tecnologia, è la capacità di entrare nel mercato con le nuove tecnologie, con le nuove metodologie per affermarsi e per vincere. Matera ha questa ambizione. Ma perché ha questa ambizione? Perché è il luogo che garantisce questo percorso. Noi non abbiamo più bisogno nel 2019 di industrie pesanti. Abbiamo bisogno di industrie pensanti. E qual è il luogo migliore al mondo per stimolare la creatività dei talenti del nostro tempo, se non questo luogo magnetico, carico di ispirazioni e di emozioni, che può creare quei cortocircuiti creativi. Questa è la ragione per cui Matera si candida a diventare città digitale. Ecco perché Matera vuol trasformare i vicinati contadini in vicinati digitali. Non è un fatto soltanto sentimentale, è un fatto di concretezza, perché come qualcuno mi ha detto qui, lui ha avuto tumulti di creatività. Il luogo è straordinario, direi quasi legato a questa capacità creativa, ma poi è un luogo dove esiste ancora la qualità dell'ambiente, la qualità umana e la qualità della vita che altri luoghi non offrono più. Matera è una città sicura. Posso dire che Matera è ancora una città buona. Ecco le condizioni, cari miei concittadini, per pensare a costruire questo futuro. Un futuro che può creare un modello per l'intera nazione. Perché io sono convinto che la nuova autonomia economica del Mezzogiorno passa attraverso un legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e tecnologia e innovazione. E questo è il luogo dove è possibile sperimentare questo nuovo percorso di creatività legato a un obiettivo, creare lavoro per i nostri giovani che si laureano e vanno fuori da questa città. Ecco perché il 2019 vivrà il momento gioioso della festa internazionale ed europea, ma imporrà a noi, governo della città, di utilizzare il brand, il potere contrattuare, la visibilità e anche l'attrazione che questa città ha nel mondo per far venire qui le imprese che vogliono realizzare questi percorsi. E non è soltanto un'enunciazione, perché già sono in corso questi momenti di lavoro. Matera ormai sarà servita entro quest'anno al 70% della fibra veloce, ultraveloce, un mille giga. Matera è il centro di riferimento della nuova ricerca e della nuova applicazione della ricerca della nuova generazione della telefonia, il 5G, e quindi sulle nuove connessioni digitali. Matera si è candidata anche attraverso la individuazione nel vecchio convento di San Rocco per diventare un hub digitale dove in primavera andranno a collocarsi 14 imprese digitali che daranno lavoro a giovani talenti che si attrezzano su questo percorso. Perché queste 14 imprese sono state già selezionate e tra giorni avranno la collocazione in questa struttura comunale insieme a un altro centro prestigioso che sarà quello del Centro Nazionale delle Ricerche. Stiamo costruendo la città digitale non attraverso enunciazioni, ma attraverso fatti. Come vedete mi soffermato sulla tecnologia perché penso che questa sarà anche un altro percorso insieme a quelli che abbiamo già tracciato. Il turismo ovviamente va collocato in una condizione migliore e di stabilizzazione. Matera non può essere solo una città da vedere ma deve essere una città da capire e da comprendere. Per questo stiamo realizzando il grande parco tematico della storia dell'uomo. che può raccontare la storia dell'uomo dai buchi neri della grotta dei Pipistrelli ai buchi neri dello spazio nel centro di Giovisia Spaziale. E tutto questo sarà fatto entro il corrente anno perché finita il momento attrattivo del 2019 nel 2020 si apre quest'altro grande percorso. Matera sta già poi lavorando sempre nel 2019 per creare le officine della cultura quella sul teatro e quella sul cinema. Dobbiamo potenziare anche il ruolo della città sulla conservazione del patrimonio culturale soprattutto rafforzando la funzione della scuola di restauro. Ecco, sono i percorsi che danno dignità e forza a questo nuovo territorio a questo nostro territorio e danno quel ruolo che la rende vincente. Ecco, su questo io voglio che la città possa raccordarsi uscendo fuori dallo squadrismo mediatico del vociare inutile quotidiano diventiamo costruttori della città su questi percorsi cioè facendo in modo che siamo noi a scegliere e a costruire il futuro e non siano altri perché questo è sempre stato il DNA di Matera ma per fare questo c'è un altro passaggio obbligato occorre che questo vitalismo storico della città che ha dato alla città questa funzione, questo ruolo che l'ha portata a capitale europea della cultura possa anche diventare un vitalismo imprenditoriale. Ecco, entriamo anche in questo campo dove dobbiamo potenziare le capacità imprenditoriali della nostra città del nostro territorio perché il lavoro è legato strettamente alla impresa il lavoro non può più essere legato al posto pubblico o al posto fisso ha bisogno di quel tessuto imprenditoriale che noi nella fase attuale abbiamo individuato nella attività creativa del digitale dell'i-tech e della tecnologia questo è un passaggio come vedete ancora diciamo di partenza dell'anno 2019 ma volevo dirvi queste cose dicendo che la città può crescere e la città può anche ancora di più sollevarsi se tutti insieme la massimo un tantino in più se tutti quanti insieme sentissimo la responsabilità di poter essere costruttori di futuro ecco lo slogan che io vorrei lanciare nel 2019 che sia la comunità di Matera a scegliersi il futuro quel futuro vincente che può fare della città l'esempio di un meridionalismo vincente questo è l'agorio di un sindaco che è in questo momento difficile e personale ancora sulla breccia a raccomandare questa attenzione e questo amore per una città che merita amore perché ormai è diventata una città innamorata e che ha fatto innamorare l'intero paese e l'intero mondo non c'è luogo oggi nel nostro universo che non conosca Matera e che non ami Matera e che non apprezzi Matera facciamo sì che possimo anche noi questi nuovi protagonisti di questa città così come sono stati i nostri genitori e i nostri progenitori così come siamo stati noi a costruire questo nuovo percorso vincente di una città vincente che si chiama Matera questo è l'agorio e non è la speranza è la certezza che Matera sarà ancora una città vincente auguri di buon anno e buon lavoro per questo obiettivo e per questo traguardo e per questo